Come ebbe Fardo il destino. Quando Aristide Capraro si è fatto male, stava dicendo a Bentancur di rialzarsi alla svelta e di non buttarsi più in quel modo. Poi ha messo il piede in fallo e per terra c'è finito lui, lungo e disteso, come mai gli era successo in carriera. Quando l'arbitro cade, di solito il pubblico sghignazza in tribuna perché chi ha il fischietto in bocca è sempre guardato con una certa diffidenza negli stadi. Si sa, funziona così. Ma Savona no, Capraro si è tolto la scarpa e si è capito subito che l'infortunio era serio. Lesione del tendine d'Achille, questa la diagnosi a caldo dei medici, confermata più tardi anche negli spogliatoi. La gente, poca, è rimasta in silenzio e ha anche applaudito per conforto, sia pure con un certo ritegno. Alla sorpresa poi è subentrato il fastidio perché il Lega Pro se l'arbitro si fa male la partita non può andare avanti. Gli assistenti non possono sostituirlo e il quarto uomo non c'è, incredibile ma vero. Così dopo sette minuti di gioco effettivo e una ventina di minuti di attesa è arrivato l'annuncio dell'altoparlante, tutti a casa. E allora, tra frasi masticate a mezza bocca, improperi e ma come si fa, urlati al cielo, ai tifosi amaranto è tornata in mente la scenetta di Civita Castellana. 11 novembre 2013 si infortuna l'assistente Pepe di Ariano Irpino. L'arbitro De Luca Di Ercolano manda il collega Sano, Spignello Di Avellino, a fare il quarto uomo e recluta un dirigente per squadra con compiti da guardalinee. Tocca Capaccioli per l'Arezzo e niente popò di meno che al presidente della Flaminia, Roberto Ciappici, il quale, a dispetto del ruolo, dell'età e dell'andatura claudicante, prende la bandierina e comincia a segnalare falli laterali, punizioni e ovviamente posizioni di fuorigioco. Quella partita perlomeno arrivò alla fine, l'Arezzo la vinse 1-0 con un gol di Rubecchini. E nessuno avrebbe immaginato che due anni dopo avremmo rimpianto il calcio pane e salame della vituperata Serie D.